Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. Meloni, tanta meloni e ancora meloni oggi sulla stampa estera. E un po' di sinner, naturalmente per quanto riguarda le notizie che parlano dell'Italia. Buongiorno a tutti. A giudicare dalla copertura internazionale possiamo dire, per la terza giornata consecutiva, che la conferenza per l'Africa è stata un successo, almeno sotto il profilo mediatico. Sul resto bisognerà aspettare molti anni per capire se successo sarà stato. Del resto, chi non fa, non falla. Fra poco passerò ad assegna alcuni titoli africani. Comincio però con i dubbi del Financial Times, che titola il suo reportage con ecco perché l'impegno italiano per lo sviluppo di 5,5 miliardi di euro non sarà sufficiente per l'Africa. Ricordando che la Premier italiana, per mantenere la sua promessa elettorale di contenimento dell'immigrazione illegale, intende offrire questo denaro per creare nuove opportunità di lavoro nei paesi di partenza, il quotidiano della City fa notare che dei 5,5 miliardi, 3 vengono dal Fondo Italiano per la mitigazione e l'adattamento del clima, mentre altri due e mezzo dai fondi staziati per la cooperazione e lo sviluppo. E se Ursula von der Leyen, ormai migliore amica di Georgia, ha affermato che il vertice ha rappresentato un contributo importante, non tutti i leader africani sono rimasti altrettanto colpiti. A partire da Moussafaki Mahmetti, il presidente della Commissione dell'Unione Africana, che si è lamentato per una mancata consultazione preventiva con i partner africani prima di svelare questo famoso piano Mattei. Non possiamo più accontentarci di semplici promesse che spesso non sono state nemmeno mantenute, ha detto il leader africano, che poi è lo stesso, forse lo ricorderete, che i due comici russi avevano imitato nel celebre scherzo telefonico di qualche mese fa. Noi non siamo mendicanti, ha detto ancora, e quello che chiediamo è un reale cambio di paradigma per un nuovo modello di parternariato. Altri titoli sul piano Mattei, prima di passare alle altre notizie, che come vi dicevo in apertura, riguardano comunque l'attività di governo. The Guardian, Ursula von der Leyen, afferma che gli interessi dell'Africa e dell'Europa sono ora allineati più che mai. L'economista magrebain, invece, dalla Tunisia, l'Italia prevede di investire 6 miliardi di dollari in Africa, un vertice durante il quale, spiega il quotidiano di Tunisi, sono state indicate una serie di iniziative vantaggiose per entrambi le parti, Europa e Africa, vertice al quale hanno partecipato una ventina di leader africani, compreso il presidente tunisino Qais Sayed. Qais Sayed, il quale, precisa l'agenzia Press B, ha criticato l'assenza nelle agende del vertice della guerra genocida in corso in Palestina. L'opinione dal Marocco, il capo del governo, rappresenta sua maestà e il re al vertice Italia-Africa. Notizia impaginata fra le brevi e che precisa come la conferenza romana vada a seguire tutta una serie di bilaterali che la nostra premiera ha tenuto con tutti loro nei mesi scorsi. curioso che invece di chiamarlo Piano Mattei, questo importante giornale marocchino lo chiami il processo di Roma. Altro argomento del giorno, sempre sull'attività del governo e sempre di portata internazionale, è il via libera della Corte Suprema Albanese al piano per costruire sul loro territorio i centri per i rifugiati approdati in Italia via mare e in attesa di risposta. Qui mi faccio aiutare dal Times Londra che titola L'Italia aprirà un campo per migranti in Albania dopo il ricorso al tribunale. Fino a 36.000 persone l'anno potrebbero essere inviate direttamente in una ex base aerea mentre le loro richieste di asilo verranno esaminate. Si tratta della pietra angolare dell'ambizione di Giorgia Meloni, scrive la storica testata dei conservatori inglesi, di rallentare l'ondata di migranti che salpano dal Nord Africa verso l'Italia. Ora, con la luce verde della giustizia albanese, il piano dovrà tornare al Parlamento di Tirana per l'approvazione definitiva della legge. Spiega sempre il Times che questo piano è diverso da quello del governo britannico recentemente bocciato che prevedeva la deportazione dei richiedenti asilo in Rwanda. In Albania l'Italia prevede di mandare solo i migranti provenienti da quei paesi considerati sicuri come la Tunisia per i quali le pratiche di rimpatrio saranno presumibilmente più veloci. Nonostante le critiche delle organizzazioni umanitarie, scrive e conclude il Times, il piano ha avuto la benedizione di Ursula von der Leyen. Nessuno lo dubitava. Italia su Barron's, settimanale del Wall Street Journal. Con sepolta sotto un enorme debito, l'Italia mette in vendita i gioielli della corona. Chissà se la Meloni sia inacidita come quando lo ha scritto Repubblica. Scrive Barron's che, nonostante tempo addietro, Meloni avesse definito le poste italiane come un gioiello della corona che deve rimanere nelle mani dello Stato, ora ne sta vendendo una quota come parte di un programma di privatizzazioni per affrontare un debito enorme. L'obiettivo è quello di raccogliere 20 miliardi di euro entro il 2026, aggiungendo al pacchetto anche eni e ferrovie dello Stato. Questo è sempre Barron's che scrive, nonostante gli analisti prevedano che tutto ciò ben poco potrà contro la montagna di debiti che arriva a sfiorare i 3 trilioni di dollari. Tornando a poste italiane, se in un primo tempo avevano parlato di conservare il 51% delle azioni, ora il ministro Giorgetti, che è il ministro dell'economia, ha dichiarato che basterà averne in mano il 35%, arrivando così a una previsione di incassi di 3 miliardi e 9. Tutto questo, mentre un'altra privatizzazione, quella di Ita già promessa formalmente a Lufthansa, è stata sospesa da Bruxelles per il timore che possa danneggiare la concorrenza e ci vorranno dei mesi per esaminare tutti i pro e i contro. Menori bye bye, ora passiamo allo scandalo fiorentino della direttrice tedesca della Galleria dell'Accademia che a Firenze, la città che la ospita, ha dato della puttana. Ne scrivono in tanti nel mondo, ce lo facciamo raccontare dal Guardian. A titolo il capo del museo definisce Firenze una prostituta per via del numero dei turisti. Lei è Cecil Holberg, la galleria che dirige è quella dove è conservato il David di Michelangelo e ciò che mette sotto accusa è il turismo di massa. Una volta che una città è diventata una prostituta, ha detto, è difficile restituirle una verginità e lo ha pronunciato durante un evento pubblico, nemmeno un tweet come di solito succede dal sen fuggito che poi richiamar non vale. Se non ci sarà un freno assoluto sui numeri, ha detto ancora la Holberg, non ci sarà più speranza. I bancarellai con la loro paccottiglia l'avranno vinta su tutto e per sempre. Troppo tardi, come si diceva, mettere una pezza delle parole oggettivamente molto forti. La galleria ha subito rilasciato un comunicato cercando di spegnere l'incendio, ma il ministro San Giuliano, che questi direttori stranieri non li ha mai digeriti, era già sul piede di guerra e ha promesso giustizia ricorrendo a tutte le possibilità concesse dalla legislazione attuale. Contro la Holberg si è comunque espressa anche la vice sindaca fiorentina, Alessia Bettini, che ha dedotto che se la Freuden considera prostituta a Firenze, allora per lei tutti i fiorentini sono dei figli di... E poi c'è Renzi che pretende scuse o dimissioni. La Holberg, conclude il Guardian, è solo l'ultimo dei funzionari italiani a esprimere preoccupazione per l'impatto del turismo incontrollato, in particolare in città come Firenze o, peggio ancora, Venezia. Venezia, che proprio per queste ragioni potrebbe perdere il suo prezioso status di patrimonio delle Nazioni Unite, vedremo che cosa succederà ad aprile con la biglietteria per entrare. Per chiudere, oggi purtroppo senza nessun sorriso, altro caso italiano con eco internazionali è quello di Ilaria Salis, detenuta da un anno in Ungheria. EFE, l'agenzia spagnola, titola l'Italia, convoca l'ambasciatore ungherese per avere processato una donna italiana con le catene a mani e piedi. Vogliamo sapere perché Budapest, città europea, capitale europea, perché a Budapest non vengono rispettate le regole fondamentali sul trattamento dei detenuti, ha detto il capo della nostra diplomazia e vicepremier Tajani. 39 anni, originaria di Monza, la Salis, è in carcere da un anno con l'accusa di avere aggredito diversi manifestanti neonazisti durante le manifestazioni del febbraio del 2023. E lunedì la donna per la quale la procura ungherese ha chiesto 11 anni di carcere è stata portata in aula da un agente che la trascinava con le catene. Mi sembra che questa volta si sia esagerato, ha detto Tajani, senza comunque esagerare lui, visto che sostanzialmente l'Ungheria è considerata un paese molto amico di questo governo. L'imputata per inciso si è dichiarata ancora una volta non colpevole. La prossima udienza sarà il 24 maggio. Vigiliamo, sempre in Europa non tira un'aria tranquillizzante. Vi saluto, a domani.